Niente da fare per la Marco Polo Forlì, sconfitta sul campo di Faenza da Lajet Imola. I padroni di casa hanno vinto per 76-70 con pieno merito, sempre avanti nel punteggio, esclusi due agganci dei forlivesi nel terzo quarto e a cinque minuti dal fischio finale. Forlì però ha disputato una prova ben diversa da quella molto negativa, costata la sconfitta con Rimini. La difesa della Marco Polo, infatti, nella seconda parte dell'incontro, ha messo vistosamente in crisi l'attacco imolese, come dimostrano le 24 palle perse da Lajet. Forlì ha anche vinto, nonostante lo spavoracchio Ibi, la lotta a rimbalzo, 37 contro i 34 di Imola. Ancora una volta però la mira dei forlivesi è stata storta, 16% da 3 e 40% nel totale. Ma la vera differenza l'hanno fatta ai tiri liberi, 30 per Imola e ben 27 andati a bersaglio, con 13 su 13 da parte di Whiting, contro i soli 14 della Marco Polo. Merito degli attaccanti forlivesi più pericolosi, di alcuni falli ingenui commessi dai forlivesi col bonus già esaurito, ma anche, va detto, di una terna arbitrale che ogni qualvolta Marco Polo ha rimesso in discussione il risultato finale, nelle successive fischiate ha sempre dato ragione ai padroni di casa che hanno subito approfittato, riprendendo un esiguo ma decisivo vantaggio nel punteggio. Fra i forlivesi molto bene il lungo Poletti, un Leone a rimbalzo con 4 su 5 al tiro, bene anche i registi Piazza e Forai in difesa. Ancora un enigma invece è l'americano Whitman, 5 su 14 al tiro, spesso impreciso, ma altrettanto spesso in attacco, vistosamente ignorato dai compagni.